Sirene spiegate, pattuglie dei carabinieri in strada, poi anche l'arrivo di un'ambulanza. Notte di paura non c'era superiore, erano trascorso da poco le due di notte, tra venerdì e sabato, quando si è creato il caos all'improvviso per la presenza in strada di un uomo di nazionalità nigeriana, forse con problemi psichici, di sicuro in forte stato di agitazione e in giro armato di coltello. L'uomo ha reagito dopo l'arrivo dei militari, due le pattuglie del nucleo radiomobile di Noceano Inferior che si sono portate sul posto. La reazione dell'africano ha scaturito una colluttazione. L'uomo ha prima lanciato delle pietre nei confronti dei militari, poi calci e pugni. Ha riversato così tutta la sua rabbia sui carabinieri, quattro dei quali rimasti feriti, portati al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Noceano Inferiore successivamente. Solo dopo qualche minuto dalla colluttazione, i militari sono riusciti a fermare l'uomo utilizzando anche lo spray al peperoncino. Il nigeriano, senza fissa dimora, è stato arrestato. Nel giro di poche ore dunque, tra Noceano Inferiore e Noceano Superiore, in due distinti episodi, sono rimasti collusi ben otto carabinieri e due poliziotti. L'altra mattina, infatti, si ricorderà in via Garibaldi a Noceano Inferiore, un pregiudicato aveva seminato il panico armato di un bastone, minacciando le persone per strada. Poi l'episodio del nigeriano armato di coltello.